Musica Le persone frentenne, per me qui fuori non è facile difendere e difendermi Anche perché potrei anch'io non comprenderti più Musica Io ero una ragazza di 26 anni e tu una donna di 45 anni e io ti ho sostenuta ogni volta Ti dico solo una cosa, io ho incontrato una donna meravigliosa, Eva Grimaldi è venuta al mio No, 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 no